Valle di Cadore, la problematica della località bellunese è nota da decenni, tant'è che per la sua particolare dislocazione la chiesa di Valle è stata oggetto di un controllo strumentale già dal 1987 e successivamente sono state anche realizzate alcune opere strutturali per il consolidamento dell'area sulla quale insiste staticamente l'edificio. In prima battuta verrà ripristinato dalla regione il sistema di monitoraggio che ha avuto dei danni recentemente e quindi una perizia statica dell'edificio, un sistema di monitoraggio in continuo per verificare le condizioni dell'edificio della chiesa e poi verranno fatti ulteriori sondaggi sul corpo frana per verificare l'evolversi della situazione e valutare eventuali interventi di mitigazione. Essendo il movimento franoso del versante in continua evoluzione, gli uffici regionali, già da qualche anno, con strumentazioni laser, stanno monitorando la cresta del versante ubicato a sud-ovest della chiesa. Sì, andrà verso, io mi auguro, una soluzione del problema o comunque una mitigazione degli effetti di questo fronte franoso che investe la chiesa di Valle di Cadore, ma direi che interessa tutta la comunità di Valle di Cadore.